Così va solo per voi, amici di Night and Day, il servizio realizzato da Pablito al Nono Sonno. Ed eccoci qui a un nuovo servizio di una nuova puntata al Nono Sonno con noi questa volta. Ospite in studio. Mister. Polla. Tu hai un piccolo trionfo qui durante la serata. Trionfo? Sì. E il tuo momento di gloria qual è? La presentazione. Che la presenta? E' bellissimo, presenta lui eh. Presentazione. Questo, il senso, di una notte speciale, gola, finiamolo! Voi, come ora, la notte è gola! Questo è per quanto concerne la sala gola. La sala gola. Ok. Mentre noi dobbiamo dire che c'è ancora il privè del gola che è nominato Stomaccio. E chi abbiamo nel Stomaccio? Il grande Gigi Squillante. E' un'altra serata veramente, come dire, sconvolgente in termini di numeri, ma credo che l'aspetto più bello e magico sia un'atmosfera di grande entusiasmo, di grande allegria. E naturalmente questo mette in moto, come dire, i ppm, c'è un calore particolare anche nell'aria. Ospite d'eccezione. Alcosa, chi è la ciliegina sulla torta questa sera? Sara Grimaldi. Allora, vediamo un po' il servizio di Sara Grimaldi al gola, o meglio, l'hai presentata tu solo. Questa sera, ospite, special guest, Sara Grimaldi. Ciao, Sara. Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi invitato qui da voi. Sono molto felice di essere qua. Ciao! Buon regalo! Come hai visto questa struttura? Molto bella, mi è piaciuta tutta perché c'è molta energia, molto affiatamento. nello staff. La Movida ti piace delle nostre parti? Moltissimo. Sì? Sì, poi siete sul mare, io sono, io vengo dal mare. Certo, viene dalla Spezia dove andiamo a dire. Sara Grimaldi come inizia la sua carriera, o meglio, come capisce di intromettersi nel mondo dello spettacolo? Inizio proprio con la dance. I want to dance! I want to dance! Io sono così, cioè la mia voce, nella mia voce ci sono tutti i colori, cioè io non escludo nessun genere. Ho anche, diciamo, un range di voce che mi permette di spaziare tra i diversi generi. Si comincia ad andare a bandi e si arriva al 1999 dove entri a far parte, non si può dire l'auge della tua carriera, fai parte dello staff di Zucca, lo Sugarfone. È la prima volta, diciamo, che ho avuto anche il coraggio, perché lui era già qualche anno dove diceva Sara, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. È riuscito a darmi quella fiducia che mi ha tirato fuori. Nuova sera benvenuta! Ben Sara Grimaldi! E ritornando di nuovo a noi, non ho sonno. Abbiamo detto che ti ha colpito il lavoro di squadra, abbiamo parlato della nostra movita. Ci ritorneresti? Subito! Mi sono trovata troppo bella. Sara Grimaldi, qui all'anno sono, un bacio a tutti. Posso darci un bacio? Non so, vedendo io a te. Ci vediamo? Grazie a tutti, ciao! Sì, bravissima. Sono stata brava anch'io? Bene, guarda te. Sei bravo e bello! Bellissima davvero Sara Grimaldi. Il World Club. C'è qualcosa di magico qui a rio. Io comincio a farmi le croci, davvero, non sto scherzando. Stiamo lavorando bene. In pezzo a New York! Qual è il segreto quindi dello Ion? Credo che sia l'aria che si respira all'interno. Forse è quello che ci distingue rispetto agli altri locali, è proprio questo clima di armonia. E dopo il servizio dello Ion siamo arrivati così, alla fine. Alla fine arriva il presidentissimo, il patron Armando Mirra. Stasera, sabato 29 di novembre, abbiamo presentato la voce di Sara Grimaldi. Sara Grimaldi, per chi non la conoscesse, ormai ben pochi, è la prima voce di zucchero fornaciate nei suoi concerti. Segue e anticipa un progetto chiamato Regine di cuori, che porterà sul palco del Gula, del nono sonno dello Ion, quattro splendide voci. Sabato prossimo è la volta di Melanie, un'altra grandissima voce che poi è sorella di Sharon Melini, che abbiamo già ospitato anche con Dolce Vita e quant'altro. E poi finisce questa carrellata con il 13 dicembre con la De Godoy. Gora discoteca, so much preventive, Ion, dove ci troviamo? Sulla costa sud di Salerno, all'altezza del terreno di Ponte Cagnano-Faiano. Siamo la zona ormai rinomata da tanti anni come riferimento del divertimento. Siamo felici. Ragazzi, il general manager Armando Mirra è stato un quanto esplicito. Non mancate i prossimi appuntamenti. Grazie mille, ciao. È stato davvero molto esplicito e ha saputo spiegare tutto, com'è andata la serata, ci siamo divertiti anche questa sera. Ti sei divertito a proposito in studio con noi questa sera? Sempre, tanto. Devi salutare Mr. Polo. Ragazzi. Un bacio a tutti ragazzi, è finita un'altra puntata, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Gola a discoteca, poker di donne, sabato, 22 novembre, ASK, 29 novembre, Sara Grimaldi, 6 dicembre, Melanie, 13 dicembre, Danny De Godoi. Gola a discoteca, poker di donne, costa sud, Ponte Cagnano, Salerno. www.pupipuppe.com Discoteca.